Macchina che inizia a prendere velocità, al comando delle operazioni c'è Ruggiada SMS, Rania dei Fiori a largo, poi repetita RL, quindi Rob Mabel, Riccardo Zamora in avanti, Ruggiada SMS con il numero 5 di Rania dei Fiori che cerca di sistemarsi alla corda, manovra che riesce, e quindi Ruggiada SMS in avanti al comando nei confronti del numero 5 di Rania dei Fiori, repetita RL, poi Rob Mabel, ancora Riccardo Zamora. In avanti è Ruggiada SMS, che sta controllando la situazione in maniera piuttosto agevole, inizia a venire via Rob Mabel in anticipo su Riccardo Zamora, quindi in avanti sempre e comunque è il numero 2 di Ruggiada SMS, poi ancora Rob Mabel a largo di Rania dei Fiori, Riccardo Zamora, poi repetita RL a chiudere il gruppo. Rob Mabel che sistema i fianchi di Ruggiada SMS, quindi Riccardo Zamora che fa coppia con il numero 5 di Rania dei Fiori, che viaggia lungo la corda, sempre e comunque è Ruggiada SMS che controlla. Rob Mabel insiste a largo, quindi Riccardo Zamora, poi Rania dei Fiori, repetita che chiude. Azione insistita di Rob Mabel nei confronti di Ruggiada SMS che replica, Rania dei Fiori in tandem con Riccardo Zamora, poi repetita RL che per il momento sta lì a guardare. In avanti è Ruggiada SMS, poi c'è Rob Mabel, quindi Riccardo Zamora, Rania dei Fiori, in avanti è Ruggiada SMS, poi c'è Rob Mabel che dà qualche passo falso ma ritorna alla carica abbastanza incisivo. In avanti è Ruggiada SMS, poi Rob Mabel, ancora gli altri con il numero 2 di Ruggiada SMS e Rob Mabel alle prese. Rania dei Fiori, quindi repetita RL, in avanti Ruggiada SMS che prova la fuga dagli avversari con Rob Mabel che insiste a largo. Si allarga Rob Mabel e sbaglia, Ruggiada SMS che può scappare via, Ruggiada SMS che nel tratto conclusivo prende vantaggio e viene a vincere facilmente nei confronti di Rania dei Fiori e di repetita RL. 2-5-1 l'arrivo ufficioso di questa corsa, vittoria per Ruggiada SMS e Cosimo Cangelosi in cabina di regia che vincono questa corsa, secondo posto Rania dei Fiori al terzo numero 1. Grazie a tutti.